E' stato un 2010 sorprendente perché è in netta controtendenza, positiva, rispetto alla media nazionale. Il turismo abruzzese vince dopo aver superato brillantemente la sfida del 2009, segnato dalla crisi e dagli effetti negativi del terremoto aquilano e nonostante le condizioni climatiche avverse in maggio e giugno, recupera e migliora la buona performance del 2008. Abbiamo avuto un più 13% circa in termini di presenze, un più 11% in termini di arrivi rispetto al 2009 che pur nella condizione difficile del terremoto non aveva avuto quel crollo così verticale che molti paventavano. Abbiamo avuto una perdita del 12% quando molti pensavano che potevamo avere una perdita del 30%. Quindi il dato sotto il profilo numerico quantitativo è assolutamente ottimo, delineano lo stato di salute dell'attrattività della nostra regione positivo e ci dà la spinta per pianificare al meglio in maniera programmata le attività di promozione. Un risultato che premia ben oltre quelle che erano le risorse messe in campo per la promozione. Un boom sproporzionato lo definisce Di Dalmazio che così dà una spiegazione. L'Abruzzo negli ultimi tre anni non ha avuto risorse significative per la promozione turistica rispetto alle altre regioni e per le ragioni note è in una condizione di assoluta inferiorità ma questo è il dato che deve far riflettere che se i risultati si raggiungono il problema non è tanto, non è solo di quante risorse si disponga ma di come queste risorse vengano utilizzate seguendo un'attività di analisi e di misurazione dalle quali non si può prescindere. Analisi di mercato, taglio degli sprechi, programmazione condivisa da tutti gli operatori nella promozione criteri che caratterizzeranno anche l'offerta turistica abruzzese nel 2011. Assisteremo gli operatori, quella è la nostra principale attività penetreremo dei mercati, aggrediremo dei mercati non in maniera estemporanea ma misurando il grado di efficacia e di ritorno delle nostre attività ed è quello che stiamo facendo, lo abbiamo fatto recentemente con il mercato norvegese che è un mercato dinamico secondario per noi potenzialmente molto importante lo faremo senza cedere alla tentazione della consuetudine delle attività promozionali senza misurarne il grado di efficacia e di grado di ritorno. E in quest'ottica si inserisce l'annuncio, clamoroso ma evidentemente filo ad un certo punto. Quest'anno l'Abruzzo non parteciperà alla BIT non parteciperà alla BIT perché le condizioni finanziarie della Regione consentirebbero la partecipazione alla BIT ma in maniera tale che le risorse sarebbero sostanzialmente assorbite per l'80% da questa attività. Non lo facciamo, abbiamo misurato dei gradi di ritorno maggiore da altre fiere e da altre manifestazioni sulle quali andremo a investire così come ci predisporremo ad organizzare degli eventi nuovi, originali, specifici che riguardino solo l'Abruzzo nell'ambito del panorama domestico, del turismo domestico e non solo.